Gentili signori e signori, buonasera. Siete collegati con lo stadio Santiago Bernabeu, dove tra qualche istante avrà inizio la gara volevole per l'andata di semifinale di Coppa UEFA tra le compagini dell'Internazionale ed il Real di Madrid. Le condizioni del fondo di gioco sono pressoché in perfette condizioni, con una temperatura intorno ai 24 gradi centigradi e un leggero vento che soffia da nord. Ed ora passiamo alle formazioni. L'Internazionale scende in campo con Zenga Bergomi e Paresi, Viraccini, Ferri e Collovati, Fanna, Tardelli, Altobelli, Bredi e Rummenigge. Il Real risponde con Buio, Centro e Cavaccio, Stiliche, Sancisse, Gordillo, Butraghegno, Michel Martin Basquets, Valdana. Guarda che si sta qualcosa, eh! Guarda che si sta qualcosa, eh! Occhio! Ci sta, eh! Guarda che si sta qualcosa, eh! Guarda che si sta qualcosa, eh! Guarda che si sta qualcosa, ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai piccolina vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, cominciavo bene l'anno. Più furbe di sempre. Più furbe di sempre. Ancora gli cammina, gli cammina da tutte le parti. Dai, guarda, dai. La domanda che gli sta a fare. Gli ha fatto di più di più di più di 100 metri già. Gli chiette bianco porpo. Arrivano già anche alzate. Su, bella, su. Arrutto. Arrutto. Su, bella, su. Su, bella, su. Su. Su, bella, su. Su, bella, su, bella, su. Niente. Su, bella, su, bella, su. Su, bella, su. Su, bella, su. Su, bella, su. Portagora. 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 Bravissima. Portagora. 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 porta da da porta porta da 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 ora ora porta 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 ancora bravissima porta ancora porta 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 bella vieni vieni bravissima bravissimo brava porta 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 bravissima ora porta porta bella porta 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 ora porta porta vieni lachi vieni 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 cora 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 brava cora bravissima bravissima brava brava cora brava lascia 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 e vai eccoci finalmente 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 ci siamo riusciti brava cora grandissimo lavoro era arrivata la macchina scaricato il fucile grande cora e e i i i i i